La stagione invernale del teatro immediato di Pescara, diretto da Edoardo Oliva, si chiude portando in scena un espediente letterario già frequentato eppure sempre originale, lo scrittore che incontra un suo personaggio. In questo senso l'esempio più emblematico è forse Memorie di Adriano di Marguerite Ursenar ed è questo il tessuto narrativo da cui parte L'amore è un castigo, testo di Roberto Melchiorre, giovedì 23 e venerdì 24 maggio alle ore 21 al Teatro Cavour di Pescara. Sono stato sempre molto affascinato dal rapporto che c'è tra gli autori e i loro personaggi e anche nel passato abbiamo già percorso questa strada sia con Anna Karenina che con il maestro Margherita ma anche la metamorfosi di Kafka, quindi insomma questo format del personaggio che incontra l'autore è un po' una caratteristica di molti nostri spettacoli. Sul palco, per la prima volta insieme, Edoardo Oliva e Susanna Costaglione che firmano anche adattamento a drammaturgia e regia. La scenografia è di Francesco Vitelli. Sono felicissimo di fare questo spettacolo con lei, è un'attrice che io trovo straordinaria e di cui ho molta stima e quindi trovo che ci sia in questo spettacolo che appunto chiude la stagione un piccolo evento nell'evento, insomma il fatto di vederci insieme. Fusi nella scrittura innamorata della Ursenar, seppure distanziati fisicamente e temporalmente da più di 18 secoli, Margherita e Adriano instaurano un dialogo complesso e vitale, rispecchiandosi reciprocamente l'uno nell'altra. L'amore è un castigo chiude una stagione di grande successo per il teatro immediato che ha alternato prosa, musica e proiezioni di capolavori della storia del cinema. Il nostro piccolo spazio che esiste da un paio d'anni in via Pietronenni, abbiamo fatto tante cose, c'è questa novità della rassegna cinematografica che veramente ha avuto un grande successo, è piaciuta tanto, la riproporremo, ma poi il teatro come sempre, poi abbiamo incrociato teatro e musica, letteratura, insomma, i nostri linguaggi da sempre sono varie, insomma, articolati, spesso questi linguaggi dialogano tra di loro, si incrociano e anche in questo spettacolo esiste un rapporto molto forte tra la letteratura e il teatro. Con tanti testi adattati anche in maniera molto particolare, qual è la creatura a cui è più affezionata? Ma sempre l'ultima, sempre l'ultima, però devo dire che nel mio cuore c'è Gordon Pinn.